Buonasera e bentornati a Occhio al Voto, il programma di informazione politica locale di Fano TV. Anche oggi ospitiamo tre candidati al Consiglio Comunale di Fano e vi ricordo che continuiamo a garantire la par condicio per coalizioni. Nella rappresentanza delle tre coalizioni che sono scese in campo nel Comune di Fano, oggi sono con noi Samuele Mascarin di Fano in Comune, lista che sostiene la candidatura a sindaco di Cristian Fanesi per la coalizione di centro-sinistra. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Benvenuto anche Francesco Pannaroni del Movimento 5 Stelle che appoggia la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani per la coalizione progressisti per Fano 2050. Buonasera. Buonasera, grazie. Per il centro-destra Alberto Santorelli della Lega che appoggia la candidatura a sindaco di Luca, Ser Filippi. Buonasera anche a lei. Do il benvenuto anche al giornalista Massimo Foghetti che mi affianca anche in questa puntata. Grazie Massimo. Passiamo subito alle biografie e partiamo da Samuele Mascarin. È nato a Sasso Corbaro 44 anni fa ma vive da sempre a Fano insieme alla compagna Elisa. Laureato con l'Odio in Scienze Politiche, amante della lettura e della musica. Appassionato di politica internazionale, di trekking, ama viaggiare anche in modo avventuroso. La notte scrive testi umoristici e disegni e fumetti. Dal 2012 lavora come progettista e coordinatore di attività e progetti sociali per Arci. Mascarin si è appassionato alla politica sin da giovanissimo, militando nella sinistra giovanile. Ad appena 21 anni, la prima esperienza da amministratore ricoprendo l'incarico di assessore ai servizi educativi e alle politiche giovanili del comune di Fano. Nel 2005 è diventato responsabile nazionale degli studenti della sinistra giovanile, trasferendosi a Roma. Nel 2007 poi è diventato organizzatore nazionale della sinistra giovanile e due anni dopo è stato eletto al Consiglio Comunale di Fano nella lista di sinistra unita. Scenario che si è ripetuto nel 2014. Successivamente è stato nominato assessore ai servizi educativi, all'ambiente, alle biblioteche, alla trasparenza, alla partecipazione, all'innovazione tecnologica, alla pace, alla memoria e alla legalità. Nel 2018 è stato tra i fondatori dell'associazione Fano in Comune, mentre nell'anno successivo è stato nuovamente eletto in Consiglio Comunale, risultando il più votato di tutta la coalizione di centro-sinistra. È seguita la nomina ad assessore ai servizi educativi, alle biblioteche, alle società partecipate, ai rapporti con Ato e Ato, alla pace, alla memoria e alla legalità democratica. Oggi, dopo aver perso alle primarie del centro-sinistra per soli tre voti, appoggia il candidato a sindaco, Cristian Fanesi. Francesco Pannaroni, 57 anni, è nato a Gravedona, in provincia di Como, dove i suoi genitori, Graziella Furlani e Giorgio Pannaroni, lavoravano. Tornati a Fano nel 1975, si è diplomato come geometra e dal 1990 lavora in poste italiane. Ha iniziato come impiegato per poi diventare direttore nel 2002, prima dell'Agenzia di Sant'Orso, poi di quella Lido. Sono seguite quelle di Via Gabrielli per 11 anni e di Via Roma. Di recente è tornato a svolgere il ruolo di direttore a Sant'Orso. Pannaroni è sposato con Elena dal 2003 ed è papà di Carolina dal 2005. Dopo Gennaro, ora è Zara, la cagnolina che abbiamo visto anche in foto, a completare la famiglia. Impegnato in politica, è stato presidente del consiglio di circola alla Scuola Montesi di Sant'Orso. Poi, cinque anni fa, è stato eletto consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. È anche membro della prima commissione consigliare. Grande appassionato di calcio, è nel direttivo del club Forza Alma. Ora si presenta con il Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani. Puntiamo a riavvicinare i cittadini alla politica, dichiarato con il bilancio partecipato e con l'istituzione dei consigli di quartiere, portando avanti i battagli identitari del Movimento 5 Stelle, dalla sanità pubblica ai servizi sociali, sempre vicini a chi ha più bisogno. Il mio impegno, aggiunto, sarà rivolto a tutte le tematiche cittadine, con l'aiuto degli attivisti del Movimento e di professionisti, dottori, ingegneri, architetti, avvocati e sindacalisti, con un occhio particolare rivolto allo sport e agli impianti sportivi. Problema grave e annuso della nostra città, detto a discapito delle tante società sportive, che svolgono un ruolo sociale ed educativo importantissimo. Chiudiamo questo giro con Alberto Santorelli, 41 anni, papà di Edoardo Eiole, è laureato in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori. È consulente assicurativo da 10 anni, ma in precedenza è stato assessore del Comune di Fano, con deleghe al turismo, eventi, attività economiche e bilancio. Inoltre è stato presidente del Consiglio Comunale, presidente di circoscrizione e consigliere comunale. Santorelli è un appassionato di sport. Oggi torna in campo come candidato al Consiglio Comunale nella lista della Lega Fano, a sostegno di un sindaco giovane, ha precisato Santorelli, preparato e con le idee chiare. Alberto ha il desiderio che i suoi figli crescano in una città ben amministrata, capace di cogliere le sfide future, attenta alle infrastrutture stradali e sportive, alla qualità della vita e dei servizi per i giovani, le famiglie e le imprese. Queste le biografie dei candidati, ora Massimo passiamo alle domande. Benissimo, cominciamo subito, iniziamo con una domanda di sport, perché ieri è stata una bellissima giornata per Fano, con la Colle Marathon, la bella festa che c'è stata al Pincio, la vittoria della Smart System, che è lì per passare di categoria. Però ci sono anche le note dolenti, quelle del Fano Calcio, che è retrocesso in eccellenza. A termine, dobbiamo dire, di una stagione con alterne decisioni societarie che hanno influito, a cui poi vengono addebitate le maggiori responsabilità. Tuttavia c'è anche qualcosa che viene tirato in causa all'amministrazione comunale, che non solo potrebbe supportare la squadra portacolori della città, ma potrebbe farsi sentire anche per una migliore conduzione societaria. Allora io chiedo a ciascuno di voi, a partire da Mascarin, che cosa può fare l'amministrazione comunale, se può intervenire in questo caso. Ma io credo che l'amministrazione comunale possa essere protagonista se in campo verrà messo nell'immediato futuro un progetto solido, serio, che forse fino ad oggi non c'è stato, e soprattutto un progetto per il Fano Calcio e per le attività connesse che sia fortemente legato al nostro territorio. Se il sistema produttivo imprenditoriale della nostra città tornerà a investire sul Fano Calcio, io credo che l'ente locale possa e debba fare la sua parte, rispetto non solo ad esempio allo Stadio Mancini, ma anche rispetto a quelli che sono gli spazi, le strutture, utili a garantire quelle attività non solo agonistiche, ma anche di formazione per i giovani calciatori che sono fondamentali. Io penso che da questo punto di vista la città, non solo l'amministrazione comunale, possa fare la sua parte, ma serve secondo me ripartire dal territorio e serve un protagonismo, io credo, non solo pubblico, ma soprattutto in questo momento privato, forte da parte della nostra città, da parte della nostra comunità. Del resto anche oggi i calciatori si lamentano di condizioni oggettivamente che definire difficili è poco, e credo che abbiano ragione nell'individuare una serie di responsabilità in capo alla società. Francesco Panaroni. Sì, intanto grazie dell'invito Simona, grazie a FanoTV, ed è un onore essere qui con questi due competitor. L'alma è una nota dolente, tutti sanno che io sono un grande appassionato. L'alma perché porta il nome della città di Fano in giro, prima per l'Italia quando è in serie C, poi adesso in serie D a livello interregionale, purtroppo in eccellenza sarà in provincia o poco di più. L'alma però porta in giro il nome di Fano, per cui l'amministrazione comunale non se ne può completamente disinteressare. Ma ricordiamoci sempre che è una società privata. Alma e Virtus sono due società privata che con alterna e fortuna portano in giro per l'Italia il nome della città di Fano. Voglio raccontare un piccolo aneddoto, Simona. Nel 2019, quando allora era presidente Gabellini, eletto Seri per la seconda volta, ha invitato noi 5 Stelle nel suo studio a Senigallia. Noi ci siamo andati a parlare, e quella volta Gabellini ci fece vedere un progetto a livello molto embrionale, dove voleva fare uno stadio da 5.000 posti a Chiaruccia, con un albergo, un po' di studi medici, un piccolo commerciale e campi collaterali. Allora io chiese al presidente, pensavo volesse fare un project financing con il comune di Fano, saremmo stati contrarissimi. Ma presidente, i soldi? Quelli li metto io, non vi preoccupate. Allora dal comune cosa vuole? Voleva la gratuità della concessione dei terreni comunali. Dico questo perché? Perché in quel caso sarebbe stato da cogliere al volo l'occasione per andare ad approfondire la questione, per vedere se davvero un imprenditore locale poteva radicarsi per tanto tempo, facendogli fare anche i suoi interessi, ci mancherebbe altro, però portando avanti il discorso al Maglian Tosfano con serietà. Per cui dico che l'amministrazione comunale, negli sport come il calcio, la palavola, ma anche altri, deve essere vicina alle società, proprio perché si porta in giro il nome della città di Fano. Grave pecca dell'amministrazione comunale è questa, ma anche grave pecca è quella di non avere degli impianti adeguati. non solo allo stadio Mancini che è in condizioni pietose, abbiamo già parlato anche col presidente della Virtus Cenerilli, che è mio amico e sia stato i compagni di scuola, per un nuovo palazzetto, quindi bisogna studiare queste nuove strutture, una nuova palestra all'area dell'ex matatoio, ma anche una pista per la Fano Roller, per il pattinaggio che è fondamentale, per cui vicinanza dell'amministrazione, ma impiantistica al primo punto. Santorelli. Buonasera a tutti, intanto grazie anche da parte mia di questo invito, che mi fa molto piacere. Come hanno detto chi mi ha preceduto, vorremmo tutti auspicare un investimento locale per la nostra squadra di calcio principale, perché quello che è accaduto in questi giorni è veramente una triste realtà e che non accadeva da 57 anni. Quindi, però per fare questo, c'è bisogno di un'amministrazione comunale che dia delle risposte, e dia delle risposte agli imprenditori che vogliono investire, perché come diceva poc'anzi Francesco, ci sono e quando ci sono non bisogna lasciarsi sfuggire l'occasione. Voi immaginate se un imprenditore possa investire i propri soldi e associare la propria immagine a una struttura come quella dello Stadio Mancini, che ha una gradinata che sta cadendo a pezzi, o una struttura come il campo dei militari, che non è adeguata neanche per fare gli allenamenti, o una struttura come il campo della trave, dove tra l'altro, insiste, faccio un esempio, Casa Bartoli, che ci è stato raccontato che per cinque anni doveva diventare il luogo dove doveva fare allenamento la Nazionale Cantanti. Ecco, io direi che per quanto riguarda l'Alma Juventus Fano, questa sia una punta di un iceberg che riguarda poi tutta l'impiantistica sportiva, per cui questa amministrazione non ha colto un centesimo di opportunità del PNRR per fare degli impianti sportivi seri, per fare un palazzetto dello sport, per rimettere mano allo Stadio Mancini, per rimettere mano alle tante palestre che ci sono nella città, e lo stato di salute dello sport fanese, laddove è felice, lo è per l'impegno e il volontariato delle società sportive. Non è di certo per l'appoggio dell'amministrazione comunale che anche laddove si presentano degli imprenditori non agevola alcun tipo di percorso. Questo accade con lo sport, ma accade anche con altre iniziative. Quindi, quello che vorremmo fare dal 9 di giugno in poi è prendere realmente in mano la situazione ed essere i protagonisti, insieme alle società sportive, di un nuovo rilancio dello sport, a Fano, e farlo in maniera seria e progettuale. Bene, passiamo alla seconda domanda. Tiro in ballo la questione, anche se se ne è parlato tantissimo, dell'ex zuccherificio. La funzione di un polo logistico in quest'area ha suscitato un nugolo di polemiche, lo sappiamo. Chiedo a ciascuno di voi, però, la vostra posizione sul futuro di questa area, che sappiamo che versa in uno stato di abbandono da quando? Trent'anni, forse anche di più, tenendo però presente che senza una possibilità di remunerazione dell'investimento della società proprietaria, nessun operatore investirà il suo denaro. Direi di cominciare da Francesco Panaruni. Sì, grazie. Intanto amo ricordare che era stato fatto uno studio partecipato dalla prima amministrazione serie, spendendo anche centinaia di miliardi di euro, in cui si erano fatti dei progetti per riqualificare l'area dell'ex zuccherificio. Poi non se ne è fatto più niente, la situazione è andata avanti, fino a che non è stata acquistata da due privati che legittimamente fanno dei progetti industriali, personali, sul luogo di loro proprietà. Andando avanti la questione, però, cosa è successo? Che in Consiglio Comunale un emendamento del Sindaco fatto negli ultimi periodi ha sanato una posizione particolare di un'industria in salubre di secondo livello. Questione sollevata con un'interrogazione dal Consigliere delle 5 Stelle Mazzanti, poi credo ci sia anche uno sposto in procura, si vedrà. È stata sanata, ma soprattutto nel nuovo PRG si dà la possibilità di costruire altrettanto industrie in salubre in quell'area. La nostra posizione quindi qual è? Per salvaguardare sia la zona che gli abitanti che le attività che già ci sono e anche gli interessi del privato che ha speso soldi e che vuole giustamente investire, il polo logistico va benissimo anche perché potrebbe portare posti di lavoro. Va benissimo ma farlo da un'altra parte. Noi, se Marchigiani diventerà sindaco, proporremo una permuta di quei terreni dell'area dell'ex Zucca edificio con altri terreni comunali che sono vicini all'autostrada e dalla superstrada perché dobbiamo pensare, come diceva lo stesso proprietario, che passeranno almeno un tir ogni 15 minuti facendo i conti sono 100 tir al giorno. Se vengono dall'autostrada di Marotta passano Ponte Sasso, Metoriglia e Torrette. Se vengono dall'autostrada di Fano, dall'uscita di Fano passano vicino dove non c'è e non ci sarà purtroppo un sottopasso arrivano lì. Per cui il polo logistico va bene, permuta utilizzando anche la legge regionale sull'urbanistica articolo 6,3 se non ricordo male dove c'è scritto che per ogni aura impermeabilizzata cioè dove si costruisce deve essere naturalizzata un'altra per cui l'area dell'ex Zucca edificio potrebbe anche diventare un polmone verde o rispolverare il vecchio progetto iniziale. Il polo logistico sì ma fatto in una zona vicino all'autostrada e alla superstrada. Allora sentiamo cosa ne pensa Santorelli. Sì diciamo che sull'area dell'ex Zucca edificio sono esplose anche tutte le contraddizioni interne alla maggioranza che ha governato tutti questi anni la città di Fano che oggi si è divisa nelle due figure del candidato sindaco Fanesi e Marchegiani perché come ricordava appunto Francesco fu fatto un studio di fattibilità su quell'area e fu venduta alla città una condivisione su quell'area che poi non c'è stata e il piano regolatore così come tutte le scelte urbanistiche sono diventate diciamo oggetto di negoziazioni dell'ultimo minuto anche prima delle elezioni primarie delle primarie del centro-sinistra che non hanno portato bene sicuramente alla città ma credo che non abbiano portato bene neanche i protagonisti delle stesse primarie e sullo Zucca c'era tutto il tempo necessario ci sono stati dieci anni per programmare si è arrivati all'ultimo minuto con un progetto per il quale neanche noi siamo contrari al polo logistico però ci voleva più attenzione per i residenti per le case ci voleva più attenzione nel presentare questo progetto ma soprattutto ci voleva più condivisione cosa che non c'è stata non si presenta un piano regolatore a una settimana dalla scadenza del consiglio comunale quando c'erano dieci anni di possibilità per farlo così come non si fanno tutte le scelte urbanistiche decisive come questa maggioranza uscente questa amministrazione comunale ha tentato di fare negli ultimi mesi e lo zucrificio è un'area risorsa è una delle tante aree ex che questa amministrazione non ha colto come l'ex Caserma Paolini l'ex Pista di Cocart l'ex Vittorio Colonna delle aree che devono ritornare a creare ricchezza per i cittadini per le attività anche economiche e commerciali bene fuoco incrociato quindi sull'attuale gestione dell'amministrazione comunale ora sentiamo cosa ne pensa Samuele Mascarini ma innanzitutto io credo che bisogna ricordare che il piano regolatore è un piano regolatore che comunque ha messo al centro la città pubblica da questo punto di vista io rilevo a mia volta che l'emendamento che ha portato rispetto al piano regolatore generale a individuare alcune ipotesi per l'area risorsa dell'ex Zuccherificio ha introdotto una serie di contraddizioni ed è il motivo per il quale quell'emendamento la mia forza politica non l'ha votato non l'ha votato né in sede di adozione né in sede di votazione delle osservazioni a differenza del candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle che ha votato a favore ha votato a favore del piano regolatore generale mi pare no? ecco da questo punto di vista io penso che quel passaggio dell'ex Zuccherificio abbia la necessità di essere rivisto credo anche che i cittadini e le associazioni non avranno grande difficoltà di impugnare gli atti anche perché è passata questa scelta con le presenze e i voti determinanti di alcuni consiglieri che sono dipendenti della proprietà per cui qualche dubbio diciamo di legittimità io onestamente ce l'ho detto questo penso che se dobbiamo ragionare di un polo che abbia un valore strategico dal punto di vista della logistica della logistica sicuramente ci sono altre aree della nostra città penso all'area industriale penso all'area dell'ex autoporto che possono essere molto più interessanti e funzionali e in questo senso credo che un richiamo andrebbe fatto in prospettiva anche all'ipotesi dell'arretramento del sedime ferroviario perché è chiaro che se verrà arretrata la ferrovia fare un polo logistico in prossimità delle interconnessioni della superstrada dell'autostrada e di un nuovo tracciato ferroviario sia essenziale Passiamo ora alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che finalmente ha sancito il diritto dell'Italia di confiscare e richiedere la restituzione dell'atleta dell'ISIP esposto dal 1977 al Getty Museum di Malibu in California un risultato storico che accende una nuova speranza quella di poter accogliere la statua a Fano senza divisioni quale secondo voi la strategia da mettere in campo e quale potrebbe essere la sede più consona per ospitare la Stato inizia a Santorelli sempre due minuti di tempo prendo qualche secondo perché ho colto una notizia in quello che ha detto poco fa Mascherin che è quella di rivedere la previsione urbanistica della zona ex Zucrificio lo sta dicendo il candidato vice sindaco in pectore qualora vincesse Fanesi che è lo stesso Fanesi che ha portato il piano regolatore quella proposta urbanistica a me sembra una grandissima contraddizione che non dà segno di affidabilità per queste e per altre cose la città e però la registro come una notizia per quanto riguarda l'esipo ovviamente esprimiamo grandissima soddisfazione e felicità e ci complimentiamo con quanti ci hanno lavorato per arrivare a questo risultato io faccio un appello a tutte le forze politiche come la città di cogliere questa occasione questa opportunità per non dividerci perché questa città troppo spesso si è divisa nei temi importanti nelle tematiche anche annose che ci portiamo dietro da tanti anni io chiederei questo siccome sto seguendo nel dibattito che c'è già la corsa a chi propone luoghi e chi arriva primo a dire quale sarebbe la soluzione migliore io credo che la prima cosa da fare è intanto garantire che questa statua torni a Fano perché non è scontato garantire che torni a Fano garantire che non ce la scipino altre realtà vicine a noi quindi aprire da subito un tavolo con il ministero per vedere se c'è la possibilità anche con i fondi statali di creare quel museo di cui fanno bisogno per ospitare quest'opera Mascherin secondo lei invece quali strategie da mettere in campo? Fatto salvo che non credo di essere candidato vice sindaco e neppure a sindaco ed essendo un uomo libero che deve rispondere solo ai cittadini e alla propria coscienza penso che sia corretto sul piano regolatore fare alcune precisazioni anche in virtù del fatto che la mia forza politica non ha votato a favore del piano regolatore a differenza per l'appunto del candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'Isippo io penso che ci sia da valorizzare sicuramente questa grande notizia che rende merito all'impegno di quanti non solo a Fano ma anche a livello nazionale negli anni si sono battuti per questo riconoscimento credo però che dobbiamo essere cauti con gli entusiasmi perché purtroppo deve essere poi il governo degli Stati Uniti a riconoscere quella sentenza e a garantire quella rogatoria fondamentale ed essenziale per riportare la Stato in Italia quindi credo che oggi serva un impegno trasversale è vero di tutte le forze politiche a tutti i livelli per garantire che il governo nazionale in primo luogo quindi il governo Meloni in questo caso si faccia interprete di questo cambio di fase e attivi con l'interlocuzione col governo degli Stati Uniti quello che serve per portare effettivamente l'ISIP in Italia la nostra è una città che poi ama aprire i dibattiti infiniti in questo caso immagino che il dibattito sarà nei prossimi mesi nei prossimi anni dove collocare nella nostra città che però è anche il segnale di un'attenzione che evidentemente la nostra comunità ha rispetto a questo elemento identitario della nostra storia anche recente per certi aspetti non voglio aggiungermi diciamo a coloro che hanno proposto soluzioni anche interessanti però ad esempio a me non mi dispiacerebbe che nella nuova biblioteca federiciana firmata da Cucinella che avrà un'apertura sull'Adriatico possa essere prevista una collocazione di questa statua nella misura in cui la nostra appunto è una città di identità adriatica e questo sguardo credo che sarebbe coerente con la storia dell'ISIP abbiamo finito il tempo Pannaruni anche per lei la stessa domanda cosa possiamo fare e anche quale sede bene grazie mille intanto volevo una precisazione ovviamente noi come 5 Stelle eravamo e siamo contrarissimi a questo piano regolatore perché si doveva usare molto di più certo è che se rimaneva in piedi con la Guzzi era anche peggio comunque con Marchegiani Sindaco faremo dei correttivi ripiani attuativi per migliorarlo decisamente andando sull'ISIP ovviamente questa è un'ottima notizia della Corte di Strasburgo che ha riconosciuto la sentenza del Tribunale di Pesaro quindi l'ISIP ufficialmente si dice che deve tornare a Fano come ama ricordare spesso l'assessore in Consiglio Comunale contano gli atti gli atti che sono stati fatti a Fano è stata una mozione di 5 Stelle che discussi io quella volta per incentivare il Sindaco per interessarsi alla restituzione così come in Parlamento ne hanno parlato l'onorevole Rossini prima poi hanno fatto un'interrogazione l'onorevole Accotto con il Ministro Bonisoli che era molto attento a questa questione anzi quando venne a Fano nel 19 durante la campagna elettorale della Ruggeri Bonisoli ci disse fate un progetto bello anche per il luogo perché io ci tengo molto a far ritornare questi beni che sono all'estero in effetti lui si ha combattuto molto non solo per l'ISIP ma anche per altri beni culturali poi dopo c'è stato Franceschini altra interrogazione ma lì forse si è fatto un pochino di meno adesso ufficialmente si dice che deve tornare a Fano allora non dobbiamo scendere nella diatriba lo mettiamo di qua lo mettiamo di là c'è che dice i palazzi storici va benissimo anche la sala Morganti inizialmente però il problema è quello di concentrarsi su farla rientrare veramente per cui se dovessimo andare noi al governo della città faremo in modo tale che il lavoro che hanno svolto Perardi prima l'Avvocato Donnini l'Associazione Centro Città non vada perso e che l'ISIP torni realmente in Italia ma una volta che ritorna in Italia ci vuole che il sindaco della città di Fano quindi l'amministrazione comunale abbia un tavolo diretto con il ministero per far sì che per pungolarlo perché davvero devono essere gli Stati Uniti adesso che ce lo devono restituire e nel caso in cui lo restituiscano e venga in Italia Fano è la sede naturale ma ci deve essere un forte interesse da parte dell'amministrazione continua culturale e con Marchegiani non abbiamo dubbi per farlo venire se viene a Fano Massimo Sì una piccola osservazione volevo far rilevare che è stato il Getty Museum a ricorrere al tribunale dei diritti dell'uomo e mi sembra strano che uno che ricorre a un tribunale poi non ne voglia riconoscere la sentenza avversa o favorevole che sia quindi insomma anche lì bisognerà un po' vedere com'è la situazione cambiamo cambiamo argomento la priorità del programma elettorale del centro-destra l'ha espressamente rilevato il candidato sindaco Luca Serfilippi nella illustrazione del programma di sabato scorso è la sicurezza allora voi cosa ne pensate ritenete veramente che Fano abbia perso veramente la sua condizione di vivibilità o si stia esagerando per questioni elettorali la prima parola Mascarin allora la nostra è una città dove la qualità della vita è buona e questo è dato anche dalla sicurezza garantita dalle forze dell'ordine sicuramente non si può sottacere rispetto a una serie di episodi recenti meno recenti che ovviamente hanno più risalto in campagna elettorale questo è un dato di fatto ma che segnano comunque degli elementi di disagio all'interno della nostra comunità e chiamano in causa anche una necessità di controllo del territorio da questo punto di vista al netto di un investimento che è stato fatto sulla sicurezza penso 170 telecamere aver portato a regime l'organico della polizia municipale che oggi arriva a 60 unità rispetto alle poco più di 40 che il centro-sinistra trovò nel 2014 c'è però un tema grande che è quello secondo me di potenziare e rafforzare gli strumenti e gli organici delle forze dell'ordine che è un tema annoso sul nostro territorio non solo rispetto ai rischi della microcriminalità ma rispetto anche ad altri rischi grandi che sono ad esempio quelli delle infiltrazioni mafiose il nostro è un territorio dove ci sono diversi beni confiscati la criminalità organizzata e sarebbe importante rafforzare tutti quegli organi dello Stato che sono chiamati a vigilare in termini di prevenzione non solo di repressione su tutte quelle che sono i possibili rischi di delinquenza da questo punto di vista io credo che un richiamo forte vada fatto in questo momento al governo nazionale al governo Meloni perché c'è la necessità di aumentare ad esempio gli organici delle forze dell'ordine di carabinieri e pulizia nella nostra città sperando che anche questa non sia stata come dire una propaganda del centro-destra come quella delle accise della benzina perché sentiamo dire da alcuni anni che sarebbero arrivate nuove figure di personale non sono arrivate e ora che arrivino bene chi tocca ora tocca a Panaroni sì grazie mille il tema sicurezza è indubbiamente un tema presente e un tema sentito però va affrontato con demagogia e non sparando sulla pancia della questione è indubbio che ci sono stati è innegabile che ci sono stati delle situazioni spiacevoli di delinquenza a Fano come si combattono prevenendole con il presidio del territorio il presidio del territorio noi avevamo fatto una mozione se non sbaglio l'avevo discusso proprio io per istituire come Movimento 5 Stelle in città l'operatore sociale di quartiere che avrebbe avuto lo scopo solamente di presidiare di fare in modo tale che alcune situazioni non potessero degenerare e poi arrivare ad atti veramente spiacevoli il presidio del territorio va fatto ovviamente anche dalle forze di polizia ultimamente anche nei quartieri periferici io abito a Sant'Orso vedo spesso girare la pattuglia della municipale con le luci accese e questo è un sintomo che fa vedere che la polizia c'è anzi la polizia municipale in contemporanea mette sempre due pattuglie che girano per la città e la polizia municipale purtroppo a differenza di quello che dice il centrodestra che se vincono loro chissà cosa farà la municipale innanzitutto tutti gli uomini della municipale sono in strada quelli che sono in ufficio sono perché devono sbrigare atti burocratici amministrativi che non può svolgere un qualunque impiegato ma deve svolgere una persona indivisa e da turno comunque tutti escono sulle strade la polizia municipale non ha i poteri che hanno la polizia i carabinieri o la guardia di finanza faccio un esempio semplice la polizia municipale non può verificare se una persona ha il permesso di soggiorno scaduto oppure se ha commesso dei reati in precedenza allora ci vorrebbe la riforma nazionale che auspichiamo che è chiusa nei cassetti che auspichiamo che il governo di destra faccia finalmente dove si potenziano la riforma della polizia municipale che venga equiparata alle altre forze di polizia perché il presidio del territorio è fondamentale far vedere che la polizia c'è poi è ovvio che il comune di Fano ha messo più telecamere e sono servite anche a prendere subito chi ha commesso quegli atti qualche giorno fa e poi ci deve essere la repressione ma in principio ci deve essere il presidio del territorio per evitare che questi episodi avvengano con la polizia municipale che fa un gran lavoro grazie Alberto Santorelli sì oggi se c'è una emergenza a Fano è quella della sicurezza infatti il nostro candidato sindaco Luca Serfilippi ci ha aperto la convention di sabato mattina la convention programmatica in cui ha illustrato i nostri punti del programma e al punto numero uno c'è la sicurezza non è pensabile che il centro storico di Fano così come anche i quartieri siano ostaggio di bande di nordafricani che si sfidano tra loro accoltellate e bottigliate nel bel mezzo del giorno nel bel mezzo del passeggio dei cittadini fanesi e delle mamme con i bambini sono tante le segnalazioni che arrivano di mamme con il passeggino che sono costrette una volta arrivate a Porta Maggiore a girare per le vie Montevecchio via da Serravalle quindi andare davanti alla caserma perché il pincio in alcuni momenti non è neanche più attraversabile allora noi vogliamo una polizia locale che sia più polizia e meno esattore delle tasse nel limite delle funzioni che può fare la polizia locale sul territorio ma una funzione importante assolutamente da deterrente è la presenza perché abbiamo visto che le telecamere sono utilissime per andare a recuperare dopo nella fase di indagine chi ha commesso il reato chi ha commesso il fatto ma come deterrente nei confronti di chi non ha nulla da perdere non c'è cosa migliore che la presenza della polizia locale nei luoghi dove teatro in questo momento di scontri di risse e di aggressioni anche ai cittadini che si recono semplicemente a prendere l'auto e i parcheggi questa è una situazione che la città di Fano non ha più vissuto non viveva non ha mai vissuto ecco e quindi noi la vorremmo risolvere istituendo anche nei quartieri la figura del vigile di quartiere che era una figura che fungeva realmente da deterrente di alcune situazioni nei quartieri e integrando alle forze di polizia locale tutti gli strumenti e i mezzi necessari per fare quell'attività di deterrente nel centro storico e in tutta la città facciamo un'altra domanda proprio in questi giorni a partire dal 25 aprile sono visti in città sempre più gruppi di turisti bene è cominciata dunque la stagione turistica che ci giova anche molto delle iniziative sportive ebbene hanno cominciato a lavorare gli alberghi e grazie al giro d'Italia è tutto un fiorire di manifestazioni da qui fino al 29 di maggio quindi si supera anche il 16 che è proprio il giorno della tappa sono tuttavia queste iniziative di intrattenimento ritenete che il calendario degli eventi funzioni così come è stato approntato ci sono delle manifestazioni di accoglienza altre di di intrattenimento ma oppure occorre apportare dei correttivi delle qualcosa in più che ravvivi veramente la città rispetto a quello che si fa vorrei cominciare da Panaroni questa volta sì il calendario degli eventi deve essere concepito utilizzando i fondi comunali a favore di quegli eventi che portano alto il nome di Fano in città e anche in Italia e anche fuori dai confini nazionali pensiamo ovviamente al carnevale a passaggi festival al brodetto alla Fano romana al Fano jazz tutte manifestazioni che tengono alte il nome di Fano con un'elevata qualità anche della manifestazione stessa i fondi residui come devono essere utilizzati non più a pioggia come vengono fatti adesso e con assegnazioni forse anche non troppo oggettive ma soggettive anche perché c'è un regolamento comunale che prevede che queste assegnazioni di fondi seguono determinati criteri addirittura in consiglio comunale l'assessore Fattori aveva portato una mozione che noi come 5 Stelle abbiamo votato per stabilire i criteri specifici con i quali veniva redatta una sorta di classifica per far sì che determinate manifestazioni che avevano più affluenza insomma determinati criteri che stabilivano una specie di classifica al quale poter dare fondi pubblici per poter costituire eventi viene quasi completamente disattesa purtroppo questa mozione poi dopo bisogna assolutamente coinvolgere l'associazionismo e riportare alla ribalta la consulta della cultura perché con la cultura si fa turismo si fa economia la cultura deve essere il core business della programmazione della città noi siamo sicuri che con Marchegiani sindaco la cultura diventerà al centro degli eventi della città di Fano ma cultura intesa in senso lato non solamente gli eventi culturali in sé per sé anche le manifestazioni popolari sono cultura ci mancherebbe altro ci deve essere un bel connubio ma soprattutto ci deve essere una chiarezza nell'assegnazione dei fondi comunali per premiare quelle associazioni e quelle attività che portano turismo che portano il benessere a tutta la collettività riuscire a destagionalizzare ovviamente è fondamentale è una prassi che si sta iniziando a fare siamo felici le attività sportive le manifestazioni sportive aiutano tantissimo ma soprattutto programmare eventi in base a criteri oggettivi la parola ad Alberto Santorelli sì grazie perché è stato ricordato quanti eventi ci saranno in questo mese ed è veramente paradossale averli programmati e allo stesso tempo far trovare una città in questo stato con i cantieri aperti praticamente ovunque quindi questo è anche il sintomo è il segnale di una programmazione che manca a questa amministrazione comunale e il nostro candidato sindaco ha precisato proprio sabato mattina che il calendario degli eventi sarà stilato ad ottobre e l'ha fatto come promessa a tutti gli organizzatori quindi a ottobre dell'anno precedente come promessa a tutti gli organizzatori degli eventi che ci stanno riferendo che sono lasciati soli viene dato un contributo che tra l'altro è sempre quello e poi ogni anno nell'organizzazione dell'evento è come se fosse sempre il primo anno cioè a livello anche autorizzativo e di appoggio che l'amministrazione comunale dovrebbe consentire diciamo che è un'amministrazione comunale che non ha portato avanti gli eventi in maniera professionale ed è qui quello che manca tant'è che non sono riusciti a dare una profondità alle manifestazioni più importanti qual è quella del carnevale la fanno dei cesari passaggi fanno jazz ad esempio sul carnevale c'è la necessità di istituire una fondazione che vada a prendere realmente dei contributi pubblici e professionalizzi ancora di più quella che è la manifestazione principe della città appunto del carnevale e un altro segnale che rispetto a queste manifestazioni e alla storia della città questa amministrazione non ha tenuto e anche con l'evento con il quale ci siamo presentati alla capitale italiana della cultura che è con il festival di circonomia che è stato un festival acquisito e acquistato da altre realtà e che nulla a che fare con la nostra storia con la storia delle nostre iniziative dei nostri eventi si poteva sfruttare questa grandissima vetrina e occasione per dare un segnale sugli eventi della città quelli che fanno parte della nostra storia e presentarci appunto alla capitale della cultura in maniera diversa quindi ci sarà un grande cambio di passo volteremo pagina sugli eventi così come sul turismo perché fino ad oggi quello che c'è fino ad oggi è una città che è ferma da questo punto di vista Samuele Mascarini intanto io penso che sia abbastanza emblematico che la metà delle manifestazioni che citava Santorelli siano nate nei dieci anni in cui ha governato il centro-sinistra questa dimostrazione è che questa non è una città che è stata ferma è una città che al contrario è stata rimessa in movimento dopo l'immobilismo che ha conosciuto in particolare con l'ultimo governo guzzi di centro-destra del 2009-2014 creando delle condizioni che negli anni hanno consentito agli associazioni e ai privati di tornare a investire in eventi e manifestazioni nella nostra città con anche un lavoro di programmazione che negli anni è cresciuto e ha consentito anche di costruire delle sinergie importanti e questo ce lo riportano in realtà gli operatori compreso il fatto di essere riusciti gradualmente ad ampliare tanto la stagione estiva l'anno scorso la nostra è una città che ha segnato quasi più 26% di presenza nel mese di settembre e questo grazie anche a un calendario di eventi e di iniziative che è proseguito fino ad ottobre certo c'è ancora molto da fare ma c'è anche un piano strategico che è stato costruito insieme agli operatori negli ultimi due anni e che permette non solo di avere delle coordinate ma di avere degli strumenti molto concreti per costruire quella programmazione che sicuramente è fondamentale per fare sistema e per fare in modo che al netto delle singole iniziative delle singole manifestazioni ed eventi ci sia un sistema Fano in grado di proiettarsi oltre i confini della nostra città anche a livello nazionale come per la verità abbiamo fatto diverse volte negli ultimi anni grazie Mascherin con lei chiudiamo anche questo ciclo di risposte e ci fermiamo per qualche istante siamo tornati nei nostri studi per occhio al voto abbiamo ancora diversi argomenti da trattare Massimo a te Sì nella sua ultima seduta il Consiglio Comunale ha approvato una diminuzione della Tari comunque la prossima tornata amministrativa sarà fondamentale per la trasformazione della raccolta dei rifiuti si parla dell'introduzione dei cassetti intelligenti e l'ASE si dichiara pronta ad affrontare questo nuovo sistema ma attende però il via libera da parte dell'amministrazione comunale a ciascuno di voi chiedo asseconderete questa operazione o avete qualcosa in contrario sapendo che inciderà sulle bollette il che vuol dire che procurerà un aumento che sarà richiesto all'utenza direi di cominciare da Santorelli Sì grazie prendo qualche secondo giusto per fare una precisazione a quanto detto da Mascherin che gli eventi che ho citato erano eventi come il Carnevale che ci sono sempre stati la Fanno di Cesare che è stata riportata dalla precedente amministrazione di centrodestra della città e Passaggi è nato con la precedente amministrazione Aguzzi e chiarisco a scanso di equivoce che su Passaggi sia sottoscritto che il candidato sindaco Luca Serfilippi ci credono molto e invece la Fondazione Teatro ha perso tutti i soci privati che l'amministrazione precedente di centrodestra aveva inserito a teatro riguardo agli eventi per quanto riguarda Aset e la raccolta dei rifiuti sì siamo assolutamente d'accordo per questo cambio nella raccolta sottolineiamo e precisiamo che da nostro avviso siamo anche in ritardo su questo perché ad esempio comuni come San Costanzo l'hanno già fatto e hanno già previsto questo tipo di raccolta il Comune di Pesaro ha previsto le isole ecologiche con appunto la raccolta della tessera con l'intelligente sui rifiuti e un ritardo che è da imputare anche ad una gestione di Aset che se oggi Aset è pubblica lo si deve soprattutto al centrodestra che in consiglio comunale si è battuto insieme a una parte della maggioranza e qui va detto per mantenerla pubblica e per non cederla ai privati come invece voleva fare il candidato sindaco del centrosinistra Fanesi insieme a tutto il suo partito e ricordo che su questa battaglia c'era il partito di Mascarin che oggi è candidato Confanesi e lo ringrazio per questa battaglia che ci ha sempre accomunato negli anni rispetto all'Aset però tornando al tema della raccolta dei rifiuti siamo assolutamente d'accordo perché non è più possibile vedere i rifiuti davanti alle porte o davanti alle attività commerciali in giornate come anche il venerdì il sabato e la domenica stazionano lì per qualche ora perché ci deve essere il tempo necessario per gli operatori per raccoglierli ci vuole un'altra modalità di raccolta e quindi la cosa ci trovo assolutamente favorevoli ecco sentiamo cosa ne pensa Mascarin che poi è l'assessore che ha avuto la delega per quanto riguarda l'Aset ma innanzitutto devo dire trovo molto lusinghiero il fatto che Santorelli e centrodestra citino sempre Mascarin piuttosto che altri candidati evidentemente sono un interlocutore importante per loro e anche per una parte di città mi fa piacere ricordare e mi fa piacere perché questa sera in questo studio ci sono tre esponenti politici diversi anche distanti tra di loro su molte cose che però sono stati accomunati in questi anni da un tema molto importante la difesa della dimensione pubblica di Aset che credo debba essere un punto di riferimento della politica dei prossimi anni quale che sia il colore dell'amministrazione comunale che questa città si darà democraticamente a giugno perché Aset è un patrimonio di questa città è un bene comune va difeso nella sua dimensione pubblica e bisogna anche fare una considerazione rispetto a quelle che sono le risorse che attraverso Aset vengono rimesse in circolazione su questo territorio a favore della nostra comunità e anche di altri 13 comuni in una logica di solidarietà anche territoriale molto forte che ci ha consentito di coniugare per l'appunto la cucitura anche territoriale con la salvaguardia dell'ambiente questa è una città che ha il tasso di differenziata più alta del centro Italia ha raggiunto risultati molto importanti anche rispetto a diciamo così quella che è la qualità delle acque della nostra città deve fare ancora alcuni passi in avanti il tema della raccolta di migliorare la raccolta è uno di questi il tema dei cassonetti intelligenti è il tassello di un mosaico che va completato e che credo che noi sicuramente porteremo avanti nei prossimi anni perché la nostra è una città che è attenta all'ambiente alla salvaguardia del paesaggio e ASET è stato lo strumento per poterlo fare in questi anni lo dovrà essere anche in futuro Francesco Panaroni credo che sia d'accordo anche lui su questa iniziativa sì volevo fare una piccolissima chiosa sulla cultura dove volevo dire che ci piacerebbe a noi riportare a Fano eventi tipo il violino e la selce o personaggi del calibro di Dario Fo che convivono benissimo con tutti gli altri eventi culturali e saghe popolari si convivono benissimo per quello che riguarda ASET ASET è un gioiello di famiglia ASET è pubblica e deve rimanere pubblica anche il Movimento 5 Stelle mi piace ricordare all'amico Santorelli si è sempre battuto per l'ASET pubblica è un tema comune che accomuna tutti quanti ASET prende le direttive diciamo così dal comune dall'amministrazione comunale il presidente Reginelli più volte ha detto come ricordava Foghetti che è pronto a prendere le direttive che gli vengono date dalla politica la politica deve scegliere la direttiva di ASET deve essere la finalità di ASET deve essere quella di aumentare la quantità di raccolta differenziata ma aumentare anche la qualità della raccolta stessa allora parlano sempre gli atti come ricorda spesso Mascherin in comune abbiamo portato prima una mozione per valutare quali sono i costi dei differenti modi di raccolta dell'immondizia diciamo e poi abbiamo portato un'altra mozione che è stata approvata per il porta-porta spinto allora bisogna valutare anche quartiere per quartiere se è meglio fare il cassonetto intelligente o il porta-porta spinto bisogna togliere le situazioni imbarazzanti come quella dei cassonetti dell'immondizia al Lido davanti agli occhi di tutti i turisti ASET è pronta a prendere le direttive e le scelte della politica quando noi accusiamo la Giunta Seri che spesso ha deciso di non decidere su mille su tante situazioni mi viene a mettere il primo il biodigestore purtroppo no la politica deve decidere e dare le direttive ad ASET ASET deve essere utilizzata in quanto appunto geniale di famiglia anche per fare abbassare le tariffe ai cittadini promuovendo promuovendo assolutamente le comunità energetiche su tutti i tetti degli edifici pubblici su tutti i parcheggi pubblici ma anche facendo in modo che i cittadini singoli possano partecipare al bando del reddito energetico che era stato introdotto dal governo Conte per determinati cittadini che hanno determinato ISEE per cui ASET pubblica assolutamente fondamentale cambiamo argomento parliamo dell'aeroporto Sir Filippi ha dichiarato che realizzerà la pista in cemento dell'aeroporto è una decisione credo che inevitabilmente provocherà tante tesi contrarie ma qual è la vostra posizione in merito cominciamo questa volta da Mascherini allora innanzitutto credo che al di là di alcuni furori ideologici che caratterizzano i sostenitori della pista in cemento si debba ricordare semplicemente ai cittadini una cosa che per avere la pista in cemento è necessario un investimento che solo ENAC è in grado di fare il che vuol dire passare l'intera proprietà non solo la pista allo Stato e lo Stato ad oggi è disponibile a fare questa operazione solo se l'ente locale il Comune darà gratuitamente tutta la struttura questo vuol dire perdere da parte della nostra comunità della Comune di Fano milioni di euro quello che è stato investito fino ad oggi in quella struttura e perdere qualunque titolarità sulle scelte strategiche che riguardano quell'asset io credo che qualunque amministrazione debba ragionare molto attentamente di questo aspetto perché si rischia all'interno di un'area con piscine parco zona residenziale di avere una struttura completamente fuori dal controllo della città e io credo che questo sia il vero tema e tutto sommato la questione della pista in cemento sia un po' un feticio per animare un dibattito che in realtà è strabico da questo punto di vista perché in realtà il tema centrale è quello che ho appena detto pista in cemento serve o non serve? Io credo onestamente che non serva ma ribadisco questa è una valutazione che può essere anche diciamo contestata o controdedotta il tema fondamentale è che questa deve essere una scelta che non veda esclusa la nostra comunità chi la rappresenta quindi il comune di Fano e soprattutto che tutti gli investimenti che in questi 30 anni sono stati fatti su quella struttura non possono essere persi e non possiamo immaginare di gratuitamente rinunciare a milioni di euro a favore dello Stato per un investimento che poi vedrebbe l'interesse solo di pochi privati Qual è la posizione allora di Francesco Panaroni? Allora secondo noi questo è un falso problema perché il comune di Fano non ha il potere di decidere se fare una pista in cemento o in asfalto su quella zona è proprietario l'Enac io ricordo ancora delle vecchie vignette di mio padre 20 anni fa che si parlava di questa pista chi era favorevole e chi era contrario se Enac non l'ha fatto in 20 anni probabilmente ci sarà un motivo l'aeroporto di Fano non potrà mai diventare un aeroporto commerciale perché non ne ha le caratteristiche e anche perché ricordiamoci sempre che a 50 km nord abbiamo l'aeroporto di Rimini che se non sbaglio ha avuto problemi di fallimenti più di una volta e a sud abbiamo l'aeroporto di Falconara è uno slogan come spesso ci sono slogan da parte del centro-destra io volevo invitare invece il candidato sindaco Ser Filippi che è anche consigliere comunale e anche consigliere regionale oltre che comunale a proposito dell'aeroporto di Falconara di garantire quei voli territoriali Ancona-Roma che erano stati portati all'aeroporto di Falconara dal governo Conte che invece non si riescono a garantire per cui secondo noi quella dell'aeroporto è un falso problema il comune dispone solamente della proprietà degli angari di fabbricati insieme alla Fano per quello che riguarda la pista non è competenza del comune di Fano e non è sicuramente una priorità sono i soliti slogan purtroppo che vengono lanciati in campagna elettorale specialmente dalla destra allora Santorelli cosa rispondo? Rispondo che sull'aeroporto si scalda il fronte del no e il fronte del no è qui rappresentato oggi da chi mi ha preceduto su questo tema e di chi anche quando c'era la possibilità di fare la pista in cemento ha fatto manifestazioni per non farla promettendo un parco pubblico che oggi non c'è un parco pubblico che può convivere con la pista in cemento dell'aeroporto salvo che non si facciano dei laghetti che portano i gabbiani che andrebbero a finire nei motori degli aerei e quindi in un'area che è talmente stesa che può far convivere le due cose oggi l'aeroporto gira talmente al minimo come gestione come società che il bilancio della stessa società è garantito dei pac agricoli che tutti gli anni sono registrati a bilancio per circa 30.000 euro adesso ditemi cosa c'è di agricolo all'aeroporto mentre è una struttura economica che deve garantire ricchezza alla città di Fano con un vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà Pesaro e Senigallia ad esempio che non hanno e soprattutto oggi che la cantieristica e quindi tutto il tema portuale della cantieristica navale del diporto e anche dello sviluppo dell'azienda a bellocchi avrebbe bisogno di una infrastruttura che possa accogliere i clienti e allo stesso tempo i visitatori della nostra città perché chi fa economia nella nostra città sono i nostri primi promoter nei confronti della città forse non ci rendiamo conto che chi va nell'azienda della nostra città viene accolto in una maniera talmente bella e accogliente che se a questo andasse di pari passo la struttura città e il sistema città sicuramente ne trarrebbe beneficio veramente tutta l'economia fanese e la pista in cemento dell'aeroporto lasciamo decidere a Enac quali sono le condizioni per farla e decidiamoli insieme ad Enac confrontiamoci con Enac ma questo intanto va fatto perché non si può pensare di supporre quello che l'Enac vuole rispetto alla pista dell'aeroporto se questo tema all'Enac non gli è mai stato posto Passiamo ora al bilancio partecipato il progetto che ha coinvolto i cittadini nelle scelte economiche e finanziarie della città uno strumento apprezzato anche se presentato a pochi mesi dalla fine del mandato della giunta comunale che però potrebbe essere riproposto e ampliato anche in altri settori qual è la vostra opinione e quali sono le vostre proposte in merito iniziamo da Pannaroli Sì grazie Simona beh con noi sfondi una porta aperta perché la questione del bilancio partecipato per il Movimento 5 Stelle è stata una questione portata avanti negli anni anche da chi mi ha preceduto in consiglio comunale non c'è mai stata questa attenzione da parte della giunta negli anni passati quest'anno invece in questa legislatura abbiamo visto che c'è stata una attenzione nei confronti del bilancio partecipato anche grazie al lavoro svolto da Giovanni Fontana che è del Movimento 5 Stelle ma è diventato anche presidente della commissione bilancio e all'attenzione della giunta è stato introdotto un po' velocemente perché si era alla fine però era importante introdurlo nel regolamento comunale il bilancio partecipato quest'anno è alla prima edizione quindi è sicuramente migliorabile quest'anno sono stati messi a bilancio 200.000 euro di cui 50 dedicati ai progetti portati dai bambini e dalle bambine ed è un progetto fatto per far sì che la gente si riavvicini alla politica perché magari alcune attenzioni nei quartieri o nei posti periferici l'amministrazione non se ne rende forse nemmeno conto se non vengono segnalati e chi meglio di chi abita nei quartieri perché i progetti di bilancio partecipato possono essere presentati da singoli cittadini o anche di associazioni che si può andare dall'esempio semplice della panchino o qualunque altra cosa progetti che vanno finalizzati per il quartiere vengono poi portati avanti dal comune quindi non è che vengono dati soldi a destra e a sinistra per fare i progetti poi li realizzerà il comune è un'operazione sicuramente migliorabile se diventerà sindaco marchigiani come ce l'auguriamo questo bilancio partecipato sarà sicuramente portato avanti e si vedrà nelle pieghe del bilancio comunale se ci sarà la possibilità anche di aumentarlo ovviamente la partecipazione lo dicevamo sabato scorso l'incontro con gli agricoltori deve esserci un tavolo continuo con la cittadinanza per far sì che dove l'amministrazione magari non si rende conto che ci sono delle problematiche con il bilancio partecipato i cittadini possono presentare progetti per fare un parchetto per la recinzione a Bellocchi che poi ha partecipato oppure a Ponte Sasso coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione speriamo sempre di più dopo il tempo Santorelli è un progetto che verrà riproposto? Sì verrà riproposto perché comunque è un progetto che è stato apprezzato ma sicuramente è da migliorare anche io stesso ho votato uno dei progetti online poi ho saputo che c'è stato qualche problema con la votazione però quello che vorremmo fare vorremmo farlo passare anche tramite l'istituzione del Consiglio di Quartiere quelle che erano le vecchie circoscrizioni che fungevano molto da Pungolo sia da Pungolo all'amministrazione comunale ma anche di proposta per appunto quelle iniziative che vengono dai cittadini che vengono dal basso che vengono dalla città e che possono far parte ed essere protagonisti del bilancio comunale quindi è assolutamente importante la condivisione quello che ci hanno spacciato in questi anni per condivisione erano invece delle decisioni prese assolutamente dall'alto e l'abbiamo visto anche in questo ricordato anche in questo dibattito e l'istituzione dei Consigli di Quartiere era nel programma di questa amministrazione uscente e non è stato fatto appunto perché si è spacciata anche in campagna elettorale la partecipazione si è venduta la partecipazione che poi non è stata messa a terra quindi noi vorremmo fare da subito i Consigli di Quartiere avere quindi una connessione vera con la città e con le richieste e le istanze che i cittadini portano avanti da portarle in quel bilancio partecipato di cui abbiamo apprezzato l'iniziativa Mascherin stessa domanda anche per lei garantirete una continuità? Ma intanto una precisazione ovviamente fatta con molta simpatia ad Alberto Santorelli che è stato per dieci anni amministratori di questa città la vicenda dell'aeroporto la conosce molto bene per tanti motivi e anche nei dieci anni in cui è governato il centrodestra la pista non si è fatta e non perché c'era il partito del no ma perché c'erano delle difficoltà oggettive alcune sono state richiamate che oggi si ripropongono per certi aspetti anche in maniera più forte e anche più strategica perché si sta parlando di quale destino debba avere non come funziona quell'area ma come proprietà e credo che il tema di individuare se un bene come quello sia di proprietà esclusiva dello Stato o debba vedere il coinvolgimento dell'ente locale e della comunità sia un tema su cui la politica dovrebbe prendersi fino in fondo le proprie responsabilità rispetto al tema del bilancio partecipato sicuramente un'iniziativa importante incommiabile perché ha riattivato comunque una serie di interlocuzioni sul territorio in maniera anche orizzontale e quindi un giudizio assolutamente positivo da questo punto di vista credo che nei prossimi anni quella che è stata una sperimentazione perché credo debba essere interpretata in questo modo o non questa prima esperienza abbia la necessità di strutturarsi e anche di rivedere alcune coordinate anche perché su una cosa mi sia consentito di fare questa precisazione bisogna evitare diciamo il rischio che dopo le riunie sui panettoni di Natale si arrivi alle riunie sulle colombe di Pasqua perché il tema non è solo dare contributi il tema è anche attivare dei processi di partecipazione e di responsabilizzazione dei cittadini e delle cittadini rispetto a alcune scelte fondamentali il bilancio partecipato e chiudo su questo è innanzitutto chiedere ai cittadini quali devono essere i principali fondi di fronti di investimento dell'ente locale oltre alle panchine bisogna chiedergli investiamo sugli asili o sugli asfaltature aset pubblica o privata credo che questo sia il senso e la filosofia di un vero bilancio partecipato Massimo in un confronto tra candidati e le prossime amministrative non può mancare il tema della viabilità non voglio affrontare qui questa sede temi specifici come i parcheggi come la variante di Gimarra e vi dicendo di cui abbiamo parlato tante volte però voglio mettere a confronto due tesi che sono contrapposte in modo che la gente sappia veramente che scelta farete quali sono queste tesi c'è una che favorisce l'uso dell'auto con la richiesta di nuovi parcheggi anche in centro storico l'altra invece che demotiva l'uso dell'auto in favore della mobilità dolce allora quale scelta voi farete quella di incentivare l'uso dell'auto attraverso nuovi parcheggi oppure l'uso della bicicletta inibendo l'uso dell'auto in modo particolare nelle zone più critiche come quelle del centro storico direi di cominciare da Santorelli allora se la mobilità dolce è inteso pitturare per terra di rosso e chiamarle ciclabili che sfociano nel nulla più delle volte in delle barriere architettoniche o togliere i parcheggi che costringono chi prima parcheggiava in una zona ad esempio la zona mare a fare quattro giri e quindi a concorrere all'inquinamento dell'ambiente in quell'area lì se questa è considerata mobilità sostenibile o mobilità dolce noi siamo assolutamente contrari noi siamo per istituire nuovi parcheggi perché le auto non devono girare l'impazzata cercando il parcheggio siamo per la costituzione la realizzazione quindi la ricerca dopo uno studio di fattibilità di un nuovo multipiano tra la zona centro e la zona mare siamo per la previsione e la realizzazione di un nuovo piano del traffico il candidato sindaco Luca Serfilippi l'ha detto anche sabato verrà dato un incarico per un nuovo piano del traffico serio che metta veramente le ciclabili al centro di questo piano del traffico con ciclabili che partono soprattutto dai quartieri periferici e arrivano al centro della città ma che siano delle ciclabili protette quindi andranno fatte delle scelte anche delle scelte magari in alcuni momenti anche forti che provocheranno anche un po' di dissenso ma va presa una responsabilità una responsabilità nei confronti della città nei confronti degli operatori economici nei confronti di chi lavora nei confronti dell'ambiente perché dipingere per terra di vernice rossa e chiamarle ciclabili non è quello che vorremmo per la nostra città Samuele Mascherini fatto salvo che quando il centro-sinistra ha preso la guida di questa città ha asfaltato 160 km di buche che aveva lasciato il centro-destra oltre altre macerie ma questo è un altro discorso io penso che sia tutto sommato un po' forviante contrapporre il tema dei parcheggi a quello della mobilità dolce la nostra è una città che ha bisogno innanzitutto di una viabilità diversa perché è cresciuta ci sono più auto ci sono più mezzi c'è un traffico di attraversamento che è un problema strategico perché c'è anche questo aspetto su cui credo che la politica in maniera anche trasversale sia bene che si interroghi e trovi anche delle soluzioni condivise con la propria comunità ma è una città che ha bisogno soprattutto in alcuni quartieri data anche la crescita urbanistica che c'è stata di avere parcheggi e non mi riferisco solo alla zona che si affaccia al centro storico o le zone turistiche o con funzioni commerciali ma anche quelle residenziali e al tempo stesso però ha la necessità e soprattutto la possibilità di costruire una rete di mobilità dolce che vuol dire però fare anche degli investimenti e quindi delle scelte anche molto nette io penso al tema delle navette penso al tema non solo delle piste ciclabili ma anche delle ciclopedonali della messa in sicurezza di alcuni tratti che non sono solo quelli a ridosso delle scuole ma all'interno dei quartieri penso al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche che è un altro aspetto che va assolutamente messo a fuoco in maniera sistemica e non solo diciamo episodica come interventi ecco io credo che la nostra sia una città nella quale bisogna saper immaginare che mobilità dolce parcheggi anche nuove strade siano non solo compatibili ma parti di una stessa strategia sì Francesco Pannerone sì grazie vorrei ricordare anche all'assessore che è dieci anni che governa la giunta a Seri e questi provvedimenti in relazione al PEBA che io ho come argomento particolare perché mi ricordo quando purtroppo sono stato in serie delle hotelle per un periodo le difficoltà a muoversi in carrozzina allora il discorso è parcheggi o piste ciclabili assolutamente tutti e due non sono in antitesi le due cose bisogna fare uno studio uno studio serio vero ed approfondito per creare una rete vera di piste ciclabili sicure che possano essere collegate tra loro che non finiscano così a fantasia come si suol dire studio vero sulle piste ciclabili incentivare al massimo la mobilità dolce anche la micromobilità elettrica ma in sicurezza e al tempo stesso creare nuovi parcheggi quando si parla di centro storico noi con il consigliere Mazzanti facciamo una mozione quella volta che riguardava la pedonalizzazione del centro storico ma quando noi parliamo di pedonalizzazione parliamo di apertura del centro storico a favore dei pedoni e a favore delle biciclette perché siamo sicuri e lo dimostrano anche gli studi che anche gli esercizi commerciali ne hanno un guadagno perché ci saranno dei nuovi dehors organizzati bene con il comune il centro della città pensiamo a Viale Ceccarini a Riccione non ci vanno le auto il centro della città deve essere vivo deve essere un nuovo centro commerciale all'aperto come era scritto anche nel programma elettorale dell'Argeri del 19 però ben curato il centro città deve essere vivo devono essere creati poi dei parcheggi per poterci arrivare anche chi viene da fuori non è che viene in bicicletta da Calcinelli per venire a Fano parcheggia 500-600 mille metri dal centro storico penso anche all'area per esempio davanti al cimitero urbano oppure se non addirittura l'area quella più bassa all'ex zuccherificio dove ci devono essere però dopo micro mobilità per chi vuole prendere il monopattino ma anche navette elettriche messe a disposizione dal comune tramite Aset che ti portano fino al centro penso a San Vicenzi o a Pesaro è una cosa abbastanza facile però ci vuole inizialmente uno studio vero e serio sulla mobilità dolce in sicurezza terminiamo con un'ultima domanda parliamo della scuola scuola pubblica e scuola privata laddove non arriva quella pubblica assolve il servizio sappiamo quella privata che però impone un costo a quelle famiglie che se ne servono parlo di asili un servizio essenziale per i genitori che lavorano entrambi i genitori che lavorano quindi abbiamo costi differenti per chi usufruisce del servizio comunale e chi invece è costretto a servirsi del servizio privato ripropongo a voi la richiesta di dare un contributo a chi è costretto a sostenere la differenza un contributo che dovrebbe essere a carico dell'amministrazione comunale che cosa ne pensate partiamo da Mascherini lupus in fabula diciamo così ma diciamo intanto una cosa nelle Marche ci sono 224 comuni di questi solo 6 comuni hanno asili comunali nella nostra città noi rispondiamo alle esigenze di circa 300 famiglie ogni giorno e con standard qualitativi molto alti le entrate di questi servizi sono circa 500 mila euro le spese sono 2 milioni e mezzo quindi è un investimento veramente più unico che raro nel diciamo nella cornice regionale a questo aggiungiamo che in questo momento noi abbiamo aperto 3 cantieri investendo oltre 10 milioni di risorse PNRR per 3 nuove strutture 0-3 anni a Curano a Bellocchi e a Vallato per ottenere 120 posti che sono esattamente il numero di bambini che restano in lista d'attesa all'inizio di ogni anno scolastico a settembre questo è un altro investimento molto grande non lo sta facendo in questi termini nessun altro comune della regione Marche io ho 43 anni da quando sono nato il comune di Fano non ha mai costruito un asilo nido ne stiamo costruendo 3 è chiaro che nel momento in cui una città come la nostra investe milioni e milioni di euro nel personale nelle strutture è chiaro che quando riceve 70-80 mila euro di contributi dallo Stato li utilizza per affrontare le spese di gestione dei propri servizi pubblici che sono servizi peraltro che hanno il valore di riconoscere anche le difficoltà economiche e sociali delle famiglie e credo che uno dei vanti della nostra città sia di avere oltre 300 bambini e bambini che in queste strutture ci vanno gratuitamente e credo che questo sia un dato di civiltà che spero che anche in futuro qualunque amministrazione continuerà a mantenere e questa forse è una delle domande che andrebbe fatta alla politica Panaroni sì intanto grazie la mascherina rimane difficile dire che i soldi PNRR grazie al governo Conte sono arrivati in Italia questa è una piccola precisazione personale no il discorso è questo anche se andiamo a vedere il programma elettorale abbiamo vinti non è che ci abbiamo dato sì sì bravi giustamente ma va bene va dato atto e merito a chi se lo tiene nel programma elettorale della Ruggeri del 19 ricordo sempre che c'era un'iniziativa per fare in modo tale che i secondi figli i secondi geniti potessero usufruire della riflessione scolastica della retta e dello scuolabus con lo sconto del 50% e i terzi con la gratuità con un delibera di giunta se non ricordo male dell'ottobre del 2020 è stata presa in considerazione dall'amministrazione comunale questa prassi per cui ci sono delle agevolazioni per determinate famiglie allora adesso con i soldi del PNRR PNRR verranno costruiti tre nuovi esili nido benissimo che vengono fatti delle nuove sedi a noi ci piace sottolineare però come è stato evidenziato anche in questi giorni da diversi genitori anche quelle che sono le criticità degli edifici comunali esistenti quindi nella programmazione futura Marchesiani Sindaco la scuola che deve essere pubblica ovviamente per tutti quanti ha la priorità anche nella manutenzione abbiamo problemi di infiltrazione d'acqua alla Torricelli di Sant'Orso alla Montesi di Sant'Orso alla vecchia Torricelli quella di Bellocchi e anche in altre sedi al porto quindi manutenzione ordinaria delle scuole esistenti benissimo i nuovi edifici e cercare di andare incontro a quelle che sono le problematiche delle famiglie se si può con contributi comunali ovviamente sempre in base all'Ise Bene conclude Alberto Sant'Orrelli Sì grazie prima di rispondere alla domanda sento il bisogno per dovere anche di cronaca di ricordare all'assessore Mascarin che hanno avuto la possibilità di spendere tanti soldi per lo sblocco del patto di stabilità e per l'avanzo di amministrazione che ad esempio è sottoscritto l'assessore al bilancio lasciò nel 2014 e a fronte di tutti questi grandissimi soldi che hanno speso uniti a quelli dell'EPNRR non c'è un segnale forte di investimento nella città e se Mascarin parla di viabilità bisogna ricordare i 20 milioni di euro che lo Stato aveva destinato alla città di Fano per risolvere appunto il problema dell'attraversamento in città del traffico proprio come ricordava Mascarin e questa amministrazione uscente non è stata in grado di cogliere questa opportunità si è abitata cercando di fare una variante di Gimarra contro i cittadini e contro la città invece di trovare delle soluzioni alternative sulla scuola do merito al merito insomma per quanto per quanto è stato messo in programma in piano mi auguro che la variante al progetto sia stata fatta o verrà fatta perché mi dicono che per la scuola di Cucurano non c'è possibilità di ingresso per i bambini 0-3 perché hanno questo però non è stato ancora confrontato da nessun atto per ora la legge regionale parla chiaro ci vogliono delle caratteristiche chiare che ci sono questo lo vedremo speriamo che non ci cada addosso questa cosa ti stavo assessore dando dei meriti comunque per quanto ho fatto da questo punto di vista io credo che il livello della scuola sia abbastanza buono quello della nostra della nostra città vanno adottati dei correttivi che ad esempio i comitati mensa ci segnalano perché è vero che c'è un questionario di cui non si sa nulla che viene dove arriviamo tutti gli anni primi non si sa perché ma è anche vero che vorremmo andare vorremmo andare a fondo vorremmo andare a fondo bene di questo su questo argomento su questo tema perché ad esempio sulle mense necessitiamo di introdurre anche dei prodotti locali dei prodotti biologici dei prodotti a chilometri a chilometri zero che non sono assolutamente sono tutti locali i nostri non sei informato io riferisco quello che ci stanno dicendo i comitati mensa evidentemente voi parlate solo con chi vi fa comodo parlare e non con io con 2400 interrompo un attimo mi proporrei altri 30 secondi ciascuno così riuscite anche a replicare se intanto la regia prepara il timer se posso finire così finisco il concetto poi lasciamo la parola sbagliate il ragionamento che stavo tentando di fare è questo che se il livello della scuola è buono ci sono dei correttivi da fare e vanno sia nella direzione appunto dei comitati mensa perché dei correttivi da fare ci sono perché bambini che tornano affamati non ce lo dicono solo noi poi che il menù sia buono nessuno lo mette in dubbio ma che dei correttivi vanno fatti questo bisogna bisogna ammetterlo così come introdurre quello che per noi sono i prodotti tipici locali a chilometro zero e daremo delle premialità a chi li introdurrà la seconda cosa è che sulle scuole quelle esistenti non è stata fatta manutenzione perché che cade un pezzo di soffitto che cade un pezzo di soffitto alla scuola gentile è inaccettabile e questo è accaduto anche in altre scuole poi benvengano le scuole nuove benvenga il PNRR benvenga tutto quello che è stato fatto anche di buono e anche molto da parte dell'assessore però che ci sono delle cose che vanno migliorate non bisogna negare riusciamo regia a prepararlo al volo di 30 secondi ripartiamo da Samuele Mascarin lo lasciamo un minuto per comodità come preferite ok prego Mascarin ma io penso che ad esempio la riflessione scolastica sia una nostra eccellenza che ci viene riconosciuta a livello nazionale dalle amministrazioni di centro-destra di centro-sinistra del Movimento 5 Stelle per cui alcune polemiche sono abbastanza futili io penso si può sempre fare di meglio per fare meglio bisogna anche saper cambiare e questa è la linea di condotto che abbiamo avuto in questi anni e che dovrà essere mantenuta io credo nei prossimi i comitati mensa vengono eletti democraticamente dai genitori vengono distribuiti migliaia di questionari ogni anno e su quelli si tara anche il rapporto di qualità e apprezzamento delle bambine dei bambini dei genitori delle famiglie che a me piace ricordare spesso e volentieri vengono perché hanno questa possibilità nelle cucine a cucinare in quelle comunali quindi diciamo che da questo punto di vista penso che ci sia poco da aggiungere se non che uno degli elementi che ci ha sempre premiato è che i nostri sono prodotti biologici a chilometro zero il pesce che è nelle nostre scuole è quello della marineria fanese e i prodotti biologici sono quelli dei terreni che sono intorno alla nostra città Francesco Panaroni un minuto anche per lei sì grazie anche io la so così come la sta raccontando l'assessore Mascherino gli agricoltori la sono diversa abbiamo parlato sabato con gli agricoltori i prodotti sono entrano nel raggio di 70 km se non erro sono quindi prodotti a chilometro zero io posso portare l'esperienza mia moglie insegna in una scuola comunale materna dell'infanzia e mi dice che i bambini in classe sua mangiano per cui ci saranno sicuramente dei problemi con alcuni però la stragrande maggioranza gradisce questo nuovo modo di mangiare in maniera forse più sana che magari non siamo abituati noi stessi genitori non abituiamo i nostri bambini a mangiare determinati prodotti però le cose vanno bene si possono sicuramente migliorare però dove le cose vanno bene bisogna dare anche merito al merito come si diceva prima per cui chilometro zero prodotti biologici attenzione alla salute dei bambini ed è una questione di educazione anche alimentare che le scuole comunali secondo me hanno questo compito di fare senza imporre niente però siamo sulla strada buona Alberto Santorelli chiudiamo con lei le diamo un minuto a disposizione solo per precisare che quanto ho sostenuto c'è stato riportato anche dalle stesse categorie agricole che non sono assolutamente coinvolte quindi a questo punto queste tesi vanno approfondite e meritano anche una riflessione perché se le categorie deputate a coltivare prodotti biologici nella nostra città non si sentono coinvolte non sono state coinvolte evidentemente c'è un cortocircuito tra quello che sostiene l'assessore e anche Francesco Panaroni e quello che ci hanno detto ci hanno raccontato quindi questa cosa va sicuramente da parte nostra verificata per il resto sono assolutamente anch'io dell'idea che molte cose funzionano molte cose vanno migliorate e noi chiediamo qua la sesta puntata di Occhio al Voto ringrazio e saluto Samuele Mascherin di Fano in Comune facente parte della coalizione di centrosinistra Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle componente della coalizione progressisti per Fano 2050 e Alberto Santorelli della Lega per la coalizione di centrodestra un ringraziamento particolare come sempre al giornalista Massimo Fughetti io vi ringrazio per aver seguito Occhio al Voto che torna lunedì prossimo buona serata a